Ciao a tutti da Miranda, benvenuti sul mio canale! Oggi è il 21 novembre 2019, vado a provare le sfoglie TUC, novità! Con olio extravergine di oliva e sale, una pioggia di sale, c'è scritto pioggia di sale. Pesano in tutto 170 grammi. Formato convenienza al 100% ingredienti naturali. Vado a sentire il gusto, voilà! Hanno una forma triangolare, sembrano da crackers. Guardate, sono carini, eh! Una forma un po' ondulata, con dei buchini. Sono lievitate benissimo, perché guardate, ci sono degli spazi, c'è un vuoto. Quindi, la lievitazione è ottima. Un gusto delicato. Ed è un insieme, un mix di crackers. Poi si sente quel pizzico di sale. Il TUC si sente, il gusto è molto delicato. È un crackers molto delicato, una sfoglia, infatti. È un gusto molto delicato. E si sente molto anche l'olio extravergine, come se fosse una focaccia. Quindi si sente un po' gusto di focaccia. Tipo quella sottile, la genovese. Gusto di TUC molto delicato. E il gusto di crackers, un crackers particolare sfogliato. E sono delle sfoglie particolari. Poi ci si può mettere anche sopra, non so, delle salsine. Sono molto buone, ve le consiglio. Io oggi queste le mangerò a pranzo. Accompagnate con qualcos'altro. O con niente. Sono molto buone. Direi proprio di sì. E il costo, costano un po' meno di 2 euro. Sì. Direi che è un bel pacco. Con questo ci mangiate tanto. Eh sì, ci mangiate tanto. Ve le faccio vedere in una cucciolina. Così vedete anche meglio la forma. Ma l'avete già vista sicuramente bene. Vede, sono così, ondulate. Sì. Sono molto buone. Davvero. Io vi saluto. Alla prossima. E provatele. Pavesi, sfoglie, pavesi, tuc. Buonissime. Sono molto buone. Tuc, tuc, tuc. Come fare toc, toc, toc. Toc, toc. Una sfoglia. Ciao a tutti da Miranda. Alla prossima. Ciao. Un bacio. Ciao a tutti.